Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Technicity o Technicity, insomma, come volete definirlo. È un gioco che esce proprio il giorno stesso in cui sto registrando, il 15 di settembre. Non ho ancora però sotto mano il prezzo. Adesso, come identificare questo gioco? Non lo so. È un po' come quando da piccoli cerchiamo un qualcosa che ci dia, ma anche da adulti, che ci dia soddisfazione nel vederlo crescere. È un po' come il modellismo, se vogliamo. È disponibile anche la Coop Mode, ma noi creiamo un mondo nuovo. Il mondo nuovo può essere basato su una mappa del workshop oppure sulla mappa standard. Creiamo un mondo, il mondo viene creato per la prima volta in modalità classica, quindi non la creativa, quindi tutto avrà un prezzo. Il nostro primo obiettivo è quello di seguire il tutorial. Ovviamente questo gioco lo approfondiremo all'1% in tutto questo. Qua avete la mappa. Dobbiamo trovarci un terreno e quindi andare a spianare questo terreno e poi eventualmente crearci una strada. Premere V per usare il drone, quindi possiamo andare a scegliere un terreno, prendere il nostro piccolo metro e andare ad acquistare il terreno. Praticamente andiamo a piazzarci un magazzino. Un magazzino è fondamentale per l'inizio di questa avventura. Noi andiamo a cliccare, andiamo ad estendere il nostro terreno se vogliamo. No, un po' troppo. Ok. Vorrei estenderlo un po' di più perché vorrei fare un magazzino grande. Di tutto questo andremo a pagare tutto, tutti i materiali. Allora, praticamente andiamo a confermare il 16x21 del terreno e alla fine lo acquistiamo. Puliamo la vegetazione. E per questa valuta strana, 3800, compriamo il terreno. Ora, ci sta che succedano queste cose, ma va bene. Usiamo lo steamroller, quindi lo schiacciassassi, per spianare completamente il terreno. Adesso devo premere il tasto del mouse e andiamo a spianare tutto il terreno, che ci sarà molto molto utile. Adesso cade la betoniera, ma vabbè, ci serve fino a un certo punto. Vorrei spianare anche il terreno intorno per non avere troppi problemi. Infatti, eccolo qui così. Ok. Così spianiamo completamente il terreno, lo rendiamo piatto, in modo da poter avere una zona d'accesso, poi eventualmente per una strada. Ma questo lo capiremo dopo. Sono brutte queste cose qui con la strada così a vista, ma ce la facciamo andare bene. Usciamo dallo steamroller e iniziamo i primi step. Allora, aspettate che lo sposto fuori perché mi servirà. Doveva costruire un magazzino. Un magazzino qua ci dà un'idea di quello che potrebbe essere. Andiamo con il tasto tab e prendiamo un materiale. Prendiamo mattoni larghi, metallo. Ci costa, vedete, ci costa un sacco tutto questo. Creiamo, non lo so, adesso lo faccio così a caso, ne compro un botto a pacchi di 64 e iniziamo a creare le basi del nostro magazzino. Quindi iniziamo a mettere una base per altezza e iniziamo a pianificare la struttura del nostro magazzino. Creiamo una struttura e tutto questo ha un perché della cosa più interessante del titolo. Perché la costruzione di un magazzino ci consente di sbloccare altri tool perché sarà nostro compito, pian piano, andare a crearci la nostra città e a garantirci un'entrata fissa in termini di denaro. Ho sbagliato? Vabbè, questo lo si risolve brevemente premendo col tasto destro e demolendo i blocchi in eccesso. Questo ricorda un pochino Minecraft, quanto ci ha rilassato ognuno di noi. C'è chi lo ammette e chi nega. Vabbè, adesso questo è un po' una perdita di tempo. Dovremmo vedere se riusciamo. Sì, dovremmo riuscire a pianificarlo così. Il cazzo. Perché non riusciamo? Ok, devo ancora prenderci abbastanza la mano. Allora, intanto abbiamo fatto questo. Poi, l'entrata la facciamo lì, quindi la facciamo alto più o meno così. Quindi iniziamo già a tirare. Poi possiamo usare, volendo, anche il drone per aiutarci nella costruzione. Però credo che ne possiamo fare anche a meno. Allora, il magazzino lo faremo così. Intanto andiamo su. Così iniziamo a fare i quattro angoli. Perfetto. Qua non so quanto alto, quindi ho sbagliato. Però magari ci può stare lo stesso. Andiamo di là. E colleghiamo. Ok, questa è la struttura del magazzino. Adesso, temoliamo questo. Struttura del magazzino che avrà l'entrata probabilmente qui. Quindi possiamo anche andare a prendere una... La vedete, c'è tutti i mezzi. Perché poi la città nascerà sotto le nostre costruzioni. Quindi sarà davvero molto interessante. Allora, possiamo piazzare uno di questi. Tipo per il garage, ma mi sembra un po' piccolino come accesso del magazzino. Però facciamolo così, così almeno... Ok, vedete che si apre così. Esattamente al contrario di come dovrebbe apparirsi. Quindi non mi piace. I don't like it. Non mi piace fare niente. Eh, mi sa che me lo devo tenere così. Eh, sì. Vabbè, pazienza. Andiamo a prendere con l'uno. Vediamo se lo possiamo... No, 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 no. Piazziamo questo qui. Ok. Niente, il magazzino non ce lo teniamo così. Al momento non si può fare altrimenti. Non so come eliminarlo. Comunque, possiamo andare a costruire questa parete. Finire quest'altra. E poi fare velocemente qualcosa... Qualcosa d'altro intorno, giusto per completargli le pareti. Ok, questo è l'inizio del magazzino. Veramente brutto da vedere perché è montato al contrario, ma... Eh, va bene così. Vediamo se riusciamo a completarlo usando il drone. Che dovrebbe essere un po' più semplice. E lì l'ho piazzato sbagliato. Vediamo. No, devo prendere il 2. Il drone qua. Così. No, purtroppo non riesco. Ok, così. Perfetto. Sì, poi avrei potuto utilizzare anche altre cose... Altri elementi distintivi in modo da non renderlo così un cubo. Ma... Fa cagare. Veramente. Però, vabbè, è un magazzino. Ce lo chiede il gioco per cominciare. Prendiamo magari, non so, dei blocchi di vetro. E gli creiamo il classico... Le classiche finestrone alte del magazzino. Una roba del genere. In modo da... Avere... Ok. E poi cambiamo il materiale. Lo facciamo... In large brick. Così. Fa cagalissimo. Bene. Ok. Calcolate che ogni blocco lo pagate. E' costata questa parete di 200. Comunque. Questo è il magazzino. Teoricamente non possiamo... Adesso fatemi fare una cosa. Io compro questo. Voglio vedere se riesco a demolirlo. Sì? No? No. Non riesco a demolirlo. Comunque. Lo segniamo come completato. Il magazzino risulta completato. Vedete che possiamo venderlo per 7000. Rimuoverlo dalla mappa. Demolirlo. Salvarlo come prefabbricato. E pubblicarlo anche sul workshop. Ma in questo caso il tutorial ci dice che... Va bene così. A questo punto abbiamo sbloccato il camion. La garù. E così. Questo ci dà accesso appunto a queste nuove strutture. Ora possiamo anche decidere di andare a piazzare magari... Non so. Una strada o qualcosa che ci porti a quello. Ma... Vediamo un po' se possiamo farlo. Road Builder. Ok. Praticamente... Drone. Possiamo piazzare la strada che esce da qui e va direttamente al nostro magazzino. Che fa cagare così. Ma va bene. È proprio brutta. Così. Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene così. Start Posing Road. No, 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 no. Questa ce l'ha piazzata però. Ok. E la strada è stata piazzata. Fa un po' schifo. Fa veramente schifo. Però già l'aspetto vedete che è cambiato. Perché comunque rispetto a come era prima, ora qua abbiamo già. Vabbè. Dobbiamo andare a prendere... Sempre con questo. A posizionare la costruzione di un edificio. Quindi. Magari non qui. Che dici? Lo piazziamo dall'altra parte della strada. Magari qui. Perché l'agrabu ci consente di fare un copia e incolla dei vari edifici. Dei vari piani, scusate. Allora. Uno. Terrain. Piazziamo un building. With crane setup. Quindi abbiamo anche la garu. E lo piazziamo qui. Possiamo andare anche qui a estendere i nostri... Eh... Sì. Direi che questo potrebbe essere anche un buon... Un buon terreno. Right click to buy. Acquistiamo 19.000. Abbiamo... 672.000. Abbiamo anche delle entrate tra l'altro. Usa i blocchi per costruire manualmente il primo piano. Allora, io vorrei però prima di tutto andare a... Non abbiamo loro... Ah, ok. Infatti, eccolo qui. Sta diventando che notte. Io vorrei spianare il terreno però come prima cosa. Quindi devo prenderlo all'altezza minima e spianare tutto in modo da avere tutto a livello. Questa è una sorta di constructor simulator, ma il constructor simulator non è. Si fa veramente schifo. Cioè bisogna proprio studiarlo bene e farlo con cura. Potrei accostarlo anche a una sorta di farming simulator? Perché comunque dovete proprio pensare a tutto. E adesso proviamo a fare... Perché poi se... Adesso... Dopo guardiamo. Si possono fare di tutto. Si possono fare i negozi, i grattacieli. Si può fare il venditore d'auto e così. Allora, ok. Ora il blocco per costruire manualmente il primo piano. D'accordo, ok. Allora, facciamo così. Facciamo. Paint and Brick. Metallo. Facciamo di metallo. Di metallo. Allora, facciamo il primo piano. Quindi così. Così. Il primo piano lo facciamo largo così. No, un po' di più. Così. Fino qui. Andiamo di là. Questo è un bel edificio. Poi, piazziamo le finestre. Ad altezza uomo, direi. Così. Si, poi, magari, si potrei fare le altre due, in effetti. Per stare più tranquillo. Così. Si, dovrei usare il drone, in realtà. Quindi usiamo il drone. Ok. Così. E poi, magari, si sono un po' un bambu, perché avrei dovuto mettergli anche il pavimento. Però, va bene. Il pavimento ci penseremo dopo. Ok. Così. Poi andiamo a piazzare nuovamente il mattone così. 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 E così. A questo punto, ci mettiamo anche questo. Questo. E mettiamo il soffitto. Così che... Ok. Così. E così. Adesso, vediamo se riesco a chiudere tutto. Sì. Dovrei riuscire a chiudere qui. E poi venire giù. Venire giù. Ok. Cavolini. Costa un sacco di soldi. Devo andare a comprarne altri. Vedete quanti ne compro. Così almeno riusciamo a finire tutto. Sì, non ho fatto pilastri portanti. Perché non so neanche se servono in realtà. No. Ok. Continuo a sbagliare. Vado giù che voglio eliminare quello. Ok. Sì, non capisco come fare... Ok. Così. E poi... Così. Fastidio. Ok. Così abbiamo finito. Questo è un piano del nostro palazzo. Ora dice di entrare nell'agrebu. Use crane. Seleziona risorse. Sì, il problema è che è chiuso. Ma... Quindi? Se volessi uscire... No, 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 no. Seleziona... No, no, no. È... Questa. Ok. Ok. Seleziono l'area da espandere. Così. Anche di qua la metto lì. E anche qua la metto lì. Confermo. Figo. Undici piani. Start crane. Ok. E l'agrebu inizia e costruisce. È uno spettacolo. Vedere quello che sta facendo. Vedete che li sta piazzando come fossero proprio edifici veri con i pilastri, le cose di metallo dentro. Però... Comunque. Questo è un edificio. Vedremo che utilizzo gli andremo a dare. Ci sta costando un sacco di soldi. Perché già siamo a 100.000. Un sesto delle nostre sorse l'abbiamo speso qui. Speriamo che si riesca... Probabilmente non terrà conto del tipo di edificio. Sicuramente poi ci sarà la possibilità di creare delle fabbriche e duplicare gli oggetti. Ok. Demolition. Copy past. Ok. Live crane. Bello. 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 Adesso andiamo a modificare l'entrata. In modo da... Guardate che... Guardate che roba. Questo è il nostro palazzo basilare al massimo. Però ognuno ha il suo piano. Gli piazziamo anche una porta. Magari. Che poi... Non ha senso sta porta in un palazzo. Però... Gliela mettiamo. Una. E poi gliene mettiamo un'altra. Anzi no. Gli mettiamo... La chiusura così. Così è veramente brutto. Ma brutto forte. Va bene. Allora. Quando abbiamo completato. Markers complete. Possiamo vendere l'edificio. Per 235.000. Però alla fine tornerà sempre lì. And save come un prefabbricato. Ok. Salviamolo. Andiamo di fronte. Gli salviamo una foto. Una foto dell'edificio. Eccolo qua. Take a photo. Ok. Foto fatta. Il nostro primo edificio è stato costruito. Pensate di fare tutto questo per una città intera. E fatto un po' più come di comanda insomma. Scopri come creare custom item. Praticamente possiamo andare in una fabbrica. E produrre nuovi oggetti che vengono prodotti in serie. Ad esempio tavoli. E così via. Usa il Terentrum per scegliere una... E se è set to factory. Ok. Praticamente adesso noi abbiamo quello che ci ha dato la possibilità con il magazzino di avere il furgone e la gru. Abbiamo un magazzino. Abbiamo un edificio. Possiamo fare la bus station, la scuola, la fire station, l'ospedale, i negozi, l'aeroporto, altri edifici, i ristoranti. Perché poi vedrete tutta la vita del paese andare avanti. Voglio fare una cosa però. Voglio prendere road builder col drone però perché... E voglio creargli un'uscita qui così. No così. Grazie. E no così. No ma riesce a farmi la dritta. Cioè adesso poi vabbè lo sapete che il mio tono è sempre abbastanza scanzonato eh. Non cerco di fare niente seriamente però. Non sarebbe male fare una cosa girata col... Cioè sembra... Vabbè. E se lo collegassi qui? Cacchio stanno facendo? Stanno chiudendo la strada? Allora qui. Che schifo. Mamma mia ragazzi che schifo. Devo agganciarla quella. E poi andiamo di là. L'operazione asfalto che ride appena cominciata. Eh devo chiudere l'angolo. Ok così. No. Pigata direi proprio di no. Basta. X. Chiudi la... Torna al terreno. Ok. Vabbè. Ora bisogna creare la factory. La factory ci consente di creare oggetti in serie. Quindi io adesso posso prendere questo terreno qui. Quindi faccio una factory. Avanti. Vabbè. Ah. Secta factory from prefab. Allora. Vediamo. Factory. From prefab. Ok. Mi fa fare una fabbrica già fatta. Ok. Bella. Confirm. Ok. Ci viene costruita. È molto carino eh come gioco. Cioè è il classico intrattenimento in creativo fino a un certo punto. Perché adesso abbiamo quasi dimezzato le nostre risorse. Però molto bello da vedere. Molto bello da vedere costruito. E qua abbiamo la fabbrica all'interno. Con... Piazza alcuni blocchi per disegnare un'area. Per creare una forma di un item. Allora vediamo. Prendiamo il legno. Le wood planks. E creo... Non lo so. Creo... Una... Struttura... Struttura... Non lo so cosa sto facendo in realtà. Ma va bene. Proviamo così. Uno, due. Demolisci, demolisci, demolisci. Lo stiamo parlando insieme adesso qui. Quindi non... Ok. È proprio brutto. Però vediamo. Come da giù. Uno. Due. Quindi tutto quello che costruiamo qui dovrebbe essere poi replicato in. Ok. Then use the production line. Ok. Basta. Use the production line. Ok. Size. Lock proportion. Ok. Ah, me lo fa in proporzione. Ok. Next. Home and decor. Bed, other, door, window, human... No. Facciamo home and decor. Sit. Uno sgabello. Pico un tavolo. Sgabello. Start production. E vedete che iniziano a produrli. Ah, perché ho alloccato le... Stop production. No. Non bloccare le proporzioni. Le facciamo 0,5. 0,5. 0,75. E uno. Vediamo. Come viene così. Ecco. Questi sono già più piccolini, insomma. Ok. Ma tutta sta roba qui. Cosa me ne faccio? Tab. Tu prendi inventory. Order. 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 Ah, ok. Sgabello. Mi costa 20. Figo. Fanca garissimo. Però, però, usa sgabello. Ah, ok. Con penetrazione inclusa. Ok. Va bene. Va bene. E qua praticamente me li butta tutti. Me li produce. Ah, che spettacolo. Praticamente. Allora, ho capito. Questo qui praticamente vi produce questo oggetto. E lasciando questa fabbrica attiva, noi abbiamo costantemente questo oggetto da poter piazzare. Fine. Quindi se noi facciamo degli oggetti custom, ci serve la fabbrica che lo faccia. Ok. Ora ci fa fare il car dealership. Vediamo un po'. Questo non riesco più a smettere di giocare. Allora. Car dealership. Eh, sì. Terreno questo. By terrain. Cioè praticamente io adesso l'ho completato così saltandolo. E praticamente qua possiamo sbloccare. Ok. Questa è un po' una cavolata perché non c'è un controllo del gioco che questa risulta essere ufficialmente una rivendita d'auto. Ma una rivendita d'auto non c'è. Questo è un peccato che il gioco non faccia il controllo su questo. Ok. Premiamo J. E praticamente ci dà tutte le varie cose. Costruisci il car dealership. E quindi praticamente adesso cosa possiamo fare? Rissorse. Ok. Costruisci una taxi station. Perché poi praticamente guidando tutte queste cose andremo a fare. È un peccato poi per quello che ho combinato qua. Perché ho costruito una strada sopra la rivendita d'auto. Ma la rivendita d'auto l'ho fatta giusto per veloce, per finire. Ora c'è una missione. Ci sono le task. Dove noi accettiamo un ordine. E dobbiamo ordinare una supercar. Entrarci. Però il problema è che non c'è l'edificio, quindi non me lo fa fare. E guidarla fino al destinatario. Quindi questa è una cosa molto interessante. Ovviamente è andato in vacca sul finale perché ho avuto fretta di finire. Però vedete che la città inizia a prendere vita. La mappa è questa. La mappa è assolutamente enorme. Ed è decisamente enorme con le strade principali. Quindi qua ovviamente è brutto. Potrete mettervi lì, sistemare, fare varie cose. Tecnicity non è assolutamente male. Ed è un gioco da prendere estremamente chill. Con amici o da soli. Attendo anche il vostro parere adesso. E noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Ciao ciao.